Commentiamo la partita Civitanovese-Cassette Verdini con il mister Marinelli. Il mister è proprio irresistibile questo Civitanovese. Oggi abbiamo fatto un'ottima partita, soprattutto il primo tempo. Peccato abbiamo avuto anche un paio di occasioni e non le abbiamo concretizzate. Su una palla nostra poi gestita in maniera così così abbiamo preso il gol. Poi fisicamente loro sono venuti fuori. Noi avevamo 6-7 persone fuori ma i ragazzi hanno dato tutto. Rinnovo ancora i complimenti. Potevamo fare qualcosina in più ma loro obiettivamente hanno un altro stile di gestione la settimana negli allenamenti eccetera e fisicamente ci hanno sovrastato e si sono fatti sentire poi alla lunga. Comunque con i ragazzi abbiamo ottenuto, non dico testa, però abbiamo fatto una buona figura. Sì, abbiamo fatto, ripeto, un ottimo primo tempo. Poi dopo il secondo tempo abbiamo preso il secondo gol e l'espulsione. Siamo comunque rimasti compatti ma abbiamo creato meno rispetto al primo tempo. E' un buon viatico per la partita con Montecosaro e lì dobbiamo raccogliere i tre punti e fare bene. Con il mister Nocera chiediamo, mister, questa cittanovese non conosce battute del resto? No, ce la siamo guadagnata la partita perché non era facile. Allora al primo tempo avevano 9 uomini sotto la linea della palla. Si sono chiusi per non prendere gol. Siamo stati bravi a trovare un piccolo spazio per sbloccare la partita. Poi l'abbiamo gestita bene, secondo me, con il raddoppio e poi potevamo fare anche il terzo gol. Però a volte pecchiamo di egoismo nel cercare di portare troppo palla e lì è una cosa che dobbiamo migliorare. Comunque avete mostrato un ottimo organico anche nei ricambi, quindi un buon auspicio anche per il prossimo del campionato. Non siamo qua per questo. Siamo dal 7 agosto che lavoriamo per fare una squadra buona. Abbiamo avuto dei problemi di trasferta all'inizio di campionato. Ancora ne abbiamo perché abbiamo due attaccanti fuori centrali. Per cui piano piano la Rosa si sta formando, delineando e adesso dobbiamo continuare su questa strada perché ci sono squadre, ho visto bene attrezzate, che anche loro lotteranno per i vettici.